È indispensabile che un artista sappia spiegare ad un pubblico la sua arte? Non è tanto indispensabile, ma è gradito. Sarebbe un'ottima opportunità per un artista sapersi promuovere e poter raccontare al meglio il suo percorso artistico, la sua ricerca artistica. E poter raccontare la vostra arte è sicuramente un'occasione unica ed importante. Per questo motivo è una grande occasione poterla raccontare al più alto numero di persone in maniera diretta, forte e incisiva.